Circa 15.000 visitatori nel primo weekend per il prepalio di San Floriano a Iesi. Dalla scampanada record del venerdì agli eventi della domenica pomeriggio, il centro storico si è riempito di visitatori, Iesini e nonne, che hanno partecipato in massa agli appuntamenti, specialmente alla performance dei Brutti di Fosco. Il prepalio, coinvolgente soprattutto per i piccoli, ma anche con l'attenzione culturale attraverso il convegno dei falconieri di Federico II, il concorso di pittura, l'inaugurazione della mostra fotografica del Circolo Ferretti, il concerto dei ragazzi del professor Merli e la partenza del Palio Experience. Già da lunedì, fanno sapere dall'organizzazione, sono comparsi in città alcuni turisti in centro che mappa alla mano stanno visitando i punti di interesse di Iesi e i luoghi del Palio. Il programma prosegue con esclusive visite guidate alla Biblioteca Planettiana, sconti e visite guidate ai musei civici e un prezzo speciale al Museo Federico II. Da giovedì poi prenderà il via ufficialmente la 23esima edizione del Palio di San Floriano.